e quello che possiamo fare per non diventare un ospite suggestionabile è andare oltre queste risposte oltre a queste risposte che nascono dalla paura l'intuizione è quel tipo di intelligenza che si collega con la mente cosmica quindi se questa è la quarta risposta che abbiamo perché abbiamo detto che la prima è la risposta di lotta la seconda è la risposta reattiva la terza è la risposta che nasce dalla consapevolezza derivante dal riposo la quarta è intuitiva la quinta è quella che va oltre l'intuizione ed è la risposta creativa è il risultato della conoscenza e la risposta della conoscenza è quella che si ha dal porre la domanda e dal mettere l'intenzione quell'intenzione che ci dà l'abilità di creare qualcosa che prima non esisteva la risposta creativa che è una pregurativa solo dell'essere umano perché dobbiamo ricordarci che noi siamo stati fatti ad immagine e somiglianza del nostro creatore è solo pregurativa umana il poter creare qualcosa che prima non esisteva perché prima non esisteva fino a quando è stato creato dall'uomo sia essa una poesia una musica una scoperta scientifica o qualsiasi altra cosa voi pensiate e oltre alla risposta creativa c'è un'altra risposta quella chiamata la risposta visionaria la risposta visionaria consiste nell'avere una visione una visione di possibilità di qualcosa che non è mai esistito una visione che nasce dalla vostra creazione una risposta che è un sogno e io so come creare questo sogno magari questo sogno nasce da un piccolo incidente matma gandhi era su un treno in sudafrica e fu gettato fuori da quel treno solo perché aveva troppa melanina nella pelle troppa melanina in confronto agli altri agli inglesi nonostante avesse il suo biglietto di prima classe fu gettato fuori e in quel momento ebbe la visione il sogno che ultimò con lo sgretolamento dell'impero inglese oppure rosa park che era seduta su un autobus e quando le fu chiesto di muoversi da quella parte dell'autobus quella parte che era riservata ai bianchi ebbe la visione e il movimento per i diritti civili nacque da quella visione la risposta visionaria quindi va oltre la risposta creativa e ben oltre questa risposta c'è quella che viene chiamata la risposta sacra la risposta sacra è quella che crea il manifestare e chiedere a se stessi da dove arrivano tutte queste creazioni qual è la fonte Wayne parlava di poeti e è una cosa che abbiamo in comune quella dell'amore per i poeti e la poesia noi miriamo moltissimo i grandi poeti della nostra civiltà perché la poesia in molti modi va alla sorgente della creazione e un grande poeta indiano un giorno mentre guardava un campo di fiori scrisse dov'è la fonte dov'è la fonte che crea questi fiori in modo così stupendo da dove viene qual è la sorgente della creazione e tutti noi abbiamo la nostra interpretazione ma la fonte della creazione va oltre l'interpretazione personale la sorgente della creazione è quella fonte da cui noi tutti veniamo nelle tradizioni religiose questa fonte di creazione è stata chiamata in molti modi l'essere cosmico dio la sorgente di tutto ed è sì la sorgente di tutto ciò che consideriamo sacro e a seconda del periodo in cui viviamo questa definizione tende a cambiare infatti non è poi così importante come la vogliamo definire se ci accorgiamo solamente che c'è un'intelligenza cosmica che esiste un essere cosmico e che noi che pensiamo siamo espressioni di esso contenuti in esso e un prodotto di questo stesso essere cosmico quindi non siamo all'esterno ma al suo interno siamo parte dello schema generale delle cose la mente umana che cerca di capire la mente del creatore è parte di quella mente è espressione di quella mente quindi più conoscerete la vostra mente e più conoscerete la struttura dell'altra mente c'è una preghiera una preghiera di sant'agostino che dice tutta la mia vita ho bussato alla porta e anche rumi disse lo stesso in modo leggermente diverso tutta la mia vita ho bussato alla porta e quando finalmente si è aperta mi sono accorto che stavo bussando dal di dentro ero già dentro e rumi disse parlando del fare la cosa giusta o la cosa sbagliata c'è un posto ci incontriamo lì noi arriviamo girando su noi stessi dal nulla come stelle tremolanti come polvere guarda 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 questi mondi che girano su se stessi girano su se stessi dal nulla questo è nei tuoi poteri quindi cos'è questo posto se andate da un buon scienziato vi dirà che c'è molto di scritto sulla dimensione unificata l'unified field forse ne avete sentito parlare se parlate con un fisico quantico vi dirà che la dimensione unificata è formata da quattro forze perché nella natura ci sono solo quattro forze la prima forza è l'elettromagnetismo è la forza che crea la luce il calore e così via la seconda è la gravità che fa in modo che il pianeta giri tiene le stelle e tutti gli altri pianeti e tutte le altre cose in realtà al loro posto la terza viene chiamata la forza forte ed è quella forza che tiene gli atomi insieme e quando la rompiamo creiamo un'esplosione nucleare la quarta è chiamata l'interazione debole che è praticamente la forza che mantiene la struttura delle particelle subatomiche che non sono in realtà cose sono praticamente dei fantasmi matematici sono fluttuazioni di energie e informazioni cioè in altre parole le particelle subatomiche sono più idee che cose fisiche comunque tutto questo è quello che c'è gravità elettromagnetismo forza debole e forza forte tutto qua questo è quello che sappiamo o almeno quello che sappiamo nel mondo scientifico e secondo gli scienziati queste forze vengono da un'altra forza fondamentale queste quattro forze sono la stessa cosa cos'è l'elettromagnetismo? è luce luce comune che ha una parte visibile e una parte invisibile la parte invisibile sono i raggi X le microonde le onde radio le onde tv tutte le cose che noi non vediamo ma sappiamo che esistono infatti le utilizziamo per mandarci messaggi telefonare e fare tutte le cose che facciamo il giorno d'oggi poi c'è la parte visibile della luce e alla fine tutto quello che c'è è quello è luce e le forze elettromagnetiche che danno forza agli eventi nel tempo e nello spazio danno forza alla gravità e alle forze subatomiche quindi quando Dio disse è luce sia non parlava metaforicamente parlava letteralmente perché quello che è scaturito dalla mente cosmica è luce io e voi siamo fasci di luce e quando andiamo in quel posto dove c'è la consapevolezza che va oltre l'apparenza fisica va oltre la materia fisica allora lì abbiamo esperienza di noi stessi come fasci di luce perché luce è quello che noi siamo non è luce semplicemente in elementi e in particelle di forza è luce di intelligenza perché c'è una differenza tra informazione e intelligenza l'informazione tutti sappiamo cos'è sono dati ma quando l'informazione dà un feedback a se stessa evolve a livelli superiori fino a diventare intelligente e creativa allora non è più informazione non è più informazione di dati è intelligenza coscienza quindi la luce è piena di coscienza e la dimensione unificata è una dimensione piena di coscienza è letteralmente l'espressione della mente di Dio e nella dimensione unificata in questa dimensione di coscienza una delle cose che è al suo interno è proprio l'intenzione quindi se leggete i libri della Genesi dicono che Dio disse e così sia e infatti quello fu perché l'intenzione fu introdotta fu introdotta l'intenzione nella dimensione dell'energia che connette tutto con il resto e sempre più scienziati riconoscono che l'intento è una forza della natura non è una forza che esiste solo nelle nostre menti esiste anche in natura c'è uno scienziato nel periodo di Darwin il suo nome era Lamarck e grazie a lui gli scienziati sanno che il modo migliore per spiegare il meccanismo biologico è quello di scoprire l'intento che c'è dietro lo spirito in quell'organismo biologico quindi Lamarck disse che il cammello ha la gobba perché ha l'intenzione di andare nel deserto per sette giorni senza acqua disse che gli uccelli hanno le ali perché l'intenzione è di volare e questo accade sempre le giraffe hanno il collo lungo perché l'intenzione è arrivare agli alberi più alti ci sono milioni di esempi in natura i piccioni viaggiatori di cui abbiamo parlato diverse volte di tutti i miracoli che la natura ci dà perché c'è un'intenzione inserita nella consapevolezza della dimensione uno dei miei cari amici che vive in questa zona si chiama Michael è un avvocato e un buon fratello un fratello spirituale e tutte le volte che vado a casa sua incontro il suo pappagallo e ogni volta che apro la porta il suo pappagallo incomincia a cantare canzoni dei Beach Boys io incomincio a chiedermi come fa un pappagallo a continuare a cantare canzoni dei Beach Boys e canta con un accento californiano e tutto il resto ora dobbiamo pensare che la misura del cervello di quel pappagallo è circa la misura di un terzo della mia unghia della mano le sue corde vocali sono così rudimentali che non potremmo nemmeno considerare le corde vocali ha un becco invece che una bocca e canta canzoni dei Beach Boys i piccioni viaggiatori fanno lo stesso mappano il territorio e possono andare in qualsiasi parte del mondo e tornare a casa dove sono stati cresciuti o se guardate alla migrazione del farfalle monache e negli ultimi due anni c'è un grande biologo inglese che ha scritto di molti esperimenti che chiaramente e senza dubbio hanno dimostrato che l'intenzione è parte dell'energia cosmica e quindi